Festival dei Giovani di Gaeta, seconda edizione 2017, siamo qui con il campione del mondo Giovanni De Carolis, campione del mondo di Pugilato, è venuto oggi a parlare durante il workshop di Vivere da Sportivi ai ragazzi che hanno partecipato di quanto il suo sport possa aiutare ad uscire dall'angolo e a combattere il bullismo. Dici Giovanni. Come parlavo prima con i ragazzi, lo sport di per sé è fondamentale. La via del Pugilato e dello sport da combattimento può essere un'ottima alternativa. I valori vengono filtrati nelle palestre, vengono appresi bene dai ragazzi in base all'esperienza dei maestri, all'esperienza degli altri atleti e la cosa bella è che questa cosa si respira dal primo giorno che tu metti il piede nella palestra. Io ovviamente faccio il tifo, ho l'esperienza del mio sport da poter raccontare, quindi cerco un po' di togliere un po' i pregiudizi che fanno parte del Pugilato, quindi della violenza, di tutti quanti dei cliché già visti e rivisti e magari a volte un po' troppo romanzati. Quindi spero soltanto che la gente ci impari a conoscere attraverso quello che siamo in realtà, quindi spero che un po' le istituzioni diano un nuovo spazio al Pugilato per poter contribuire alla crescita e a far riconoscere i valori importanti di cui i ragazzi hanno bisogno oggi. Sappiamo che hai anche una palestra a Roma, quindi sei fortemente impegnato con i bambini, anche con i ragazzi più giovani. Volevo una curiosità, volevo sapere se hai avuto episodi in palestra di ragazzi che sono arrivati da te proprio per riscattarsi nella vita. Guarda, io ti devo dire la verità, ho due tipi di individui. Viene il ragazzo insicuro, il ragazzo molto timido, che ha difficoltà anche a spogliarsi nel gruppo insieme ai ragazzi, nello spogliatoio. Come viene invece il ragazzo tutto pieno di sé, tutto come si dice a Roma un po' coatto, no? E in base ai tipi di carattere, ai tipi di persone, si cerca di fare un tipo di lavoro. L'importante è far capire a entrambi la cosa fondamentale di questo sport, cioè il rispetto. Quindi il ragazzo timido dovrà fare un tipo di percorso per poter arrivare a una migliore consapevolezza. Io sono un super timido e ho fatto quella strada. Il ragazzo invece è un po' più esuberante a rientrare nei ranghi, ma non perché lo deve fare, ma per cercare di capire come rapportarsi agli altri. E quindi è stata una scuola anche per me mentre glielo insegnavo a loro, perché vedevo e conoscevo diversi tipi di individui, di caratteri. E piano piano attraverso la nobile arte siamo riusciti a smussarli un po', anzi molto, dai. Sappiamo l'ultimissima domanda che è convivere da sportivi la Federazione Pugilistica Italiana e anche l'Accademia Pugilistica Fiorentina. Ieri avevamo Leonard Bundu qui con noi. State portando avanti un progetto che si chiama Esci dall'angolo combatti il bullismo. Quale potrà essere il tuo contributo da sportivo? Innanzitutto la mia testimonianza principale, cioè l'esperienza che ho avuto io. Io, ripeto, non sono nato con la stoffa del campione e sono andato in palestra così, tanto per divertirmi. Quindi il mio interesse, quello che voglio fare è cercare di, tra virgolette, sfruttare questa fortuna di aver vinto il titolo mondiale per farmi ascoltare ai ragazzi, perché, ripeto, è una cosa che a me piace, se no non avrei scelto di prendere la strada da insegnante. Quindi insieme alla Federazione Pugilistica cercare di far sapere quali siano i valori più importanti e quindi, ripeto, la mia testimonianza a servizio di tutti, questo sì. Grazie Giovanni.